Bentornato a Effetto Notte a Rolando Ravello. Ciao, grazie di avermi rinvitato. Assolutamente sì, è un piacere e benvenuto a Effetto Notte a Iaia Forte, che è tra i protagonisti del nuovo film di Rolando, che si intitola La prima pietra. E già il titolo è tutto un programma. Allora, io lo voglio spiegare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, perché è un argomento di grande attualità e sono sicuro che questa è una storia con cui tutti davvero ci possiamo identificare. Comincerei un po' con questo, Rolando. Allora, in questi giorni, un po' in tutte le scuole e un po' in tutte le case, ci si sta preparando alla recita di Natale, no? È una cosa con cui i genitori devono fare i conti. E la tua storia è ambientata addirittura il 23 dicembre, no? Sì, dovrebbe essere un momento felice, no? In teoria. E invece, purtroppo, in questo momento storico sta diventando un problema. La notizia era due settimane fa di una scuola di Terni, addirittura, che ha dovuto sospendere, la preside ha sospeso la recita scolastica per non turbare l'equilibrio scolastico, perché in quella scuola sono presenti, ma come ovunque ormai, persone di altre etnie, di altre religioni. E quindi abbiamo paura e ci si fa questa guerretta inutile. È un problema complesso. Tra poco lo vedremo anche, torneremo su questa vicenda di Terni, che poi si è rivelata una bufala pazzesca, oltretutto. No, la voglio ricordare anche a chi ci sta seguendo. Iaia, le nostre scuole comunque sono sempre più composite. Io ho tante amiche che fanno le insegnanti e me lo raccontano. Comunque, da come era tanti anni fa, dentro la stessa classe si trovano bambini che esprimono culture, religioni, etnie, in molti casi diversi. Questa è una ricchezza? Dovrebbe essere una ricchezza o è un problema? È assolutamente una ricchezza. Infatti questa scuola del film è come un microcosmo di ciò che accade nel nostro paese. e la diversità religiosa è anche metafora di qualunque diversità, ma le diversità ci alimentano e ci compongono. Quindi è l'evoluzione naturale della nostra storia. Però poi, alla prova dei fatti, quello che succede in questa storia e anche probabilmente nella realtà che vivono tante famiglie, è qualcosa di completamente diverso. Allora, Rolando, stiamo per vedere quello che tu racconti in questo film perché si chiama appunto La prima pietra, e c'è proprio anche una frase, no? Qui, permettici, insomma, voglio dire una citazione, no? Chi è senza peccato, si dice, no? Scagli la prima pietra. Sì, non era Snoopy o Linus, era un testo un po' più... Eh sì, un attimino diverso, e quindi qui che succede invece? E qui c'è qualcuno proprio che la scaglia, la prima pietra del film, che è un bambino, forse in effetti l'unico senza peccato, per il momento. Perché temo, come secondo me ha ragione il gatto alla fine del film, temo che crescendo possa diventare peccatore anche lui, in quel senso. E lancia questa pietra, rompe una finestra, perché questa pietra la raccoglie nel cortile, rompe una finestra, e dietro questa finestra ci sono i due bidelli, Iaia e Valeria Prea. E da qui ne succede. E li piglia in pieno, sì. E da qui ne succede la qualunque. E allora ce la vediamo, la prima pietra, eccolo qua. Una scuola come tante, in cui si incontrano culture e anche etnie diverse, tutto è pronto per la regita di Natale. Ma dietro il coro messo su dal preside Corrado Guzzanti, si cela la tragedia, che il film racconta però in chiave di commedia. Siamo qui perché Samir ha lanciato una pietra e ha sfondato una finestra. E non solo la finestra. Ha rotto pure a noi. Lunedì 23 dicembre, l'alunno Samir Hatab, Samir, Mohamed, Ali Saeed, Salim, Abdullah Hatab, si accordano per l'esclusivo addebito, il cui importo verrà versato sul conto della scuola dalla famiglia dell'allievo Hatab. Io non firmo. Noi non paghiamo. Un bambino musulmano getta una pietra che rompe un vetro e provoca danni e ferite al bidello Valerio Aprea e a sua moglie Iaia Forte. Invece di ringraziare. Ringraziare di cosa, scusi? Forse lei non si è resa conto che paga solo i vetri rotti. Perché cos'altro c'è di rotto? Con permesso. Una testa, un gomito, una capiglia e un braccio. E noi io e mio marito le chiediamo un centesimo. Cosa avreste coraggio di chiedere voi a me? Signora Bella, si chiama risarcimento. In Italia chi rompe paga. Il preside convoca la mamma del bambino Kasha Smutriak e la suocera Serra Ilmaz e subito inizia il confronto-scontro tra mondi e culture diverse. Ora ho capito perché Samir ha rotto la finestra. Qui lei ha scritto che Samir Hatab fa il bue. E con questo? E con questo io domani vengo e l'aiuto a rompere altre due finestre. Sullo spondo c'è la recita di Natale che nasconde ben altre tensioni e paure. Mio figlio Samuele fa il ruscello. E non mi pare che né io né mia moglie abbiamo protestato. È vero no signor Presidente? No, perché avete capito il concetto. Il concetto di ruscello. Ma vuol dire che deve fare ruscello questo? E come si fa ruscello? Che ne so come si fa sto ruscello. Amore così guarda. Ieri ruscello non lo voglio fare. D'altra parte con oltre 3 milioni e 700 mila persone regolarmente residenti in Italia ma non appartenenti all'Unione Europea secondo gli ultimi dati Istat e oltre 800 mila studenti stranieri, il 10% della popolazione scolastica il tema al centro del bel filme di Rolando Ravello peraltro molto divertente e di grande attualità. Si tratta di una situazione che grandi e piccoli, insegnanti e bambini ben conoscono e vivono sulla loro pelle ogni giorno e quindi tra azioni e reazioni, tra momenti grotteschi e situazioni fulminanti lo scontro è alle porte. Ma la soluzione vera qual è? Guerra seria! Allora è una situazione che ci riguarda tutti penso che le amiche e gli amici che ci stanno seguendo anche le famiglie insomma lo sanno avendo i figli a scuola, le insegnanti lo sentiamo tutti i giorni e d'altro canto sono dei numeri e lo chiedo a tutti e due lo sentivamo anche nel cine racconto del film sono dei numeri che parlano chiaro 3 milioni e 700 mila persone attenzione non sono irregolari sono regolari sono cittadini italiani esatto che pagano le tasse e questa è una cosa 800 mila studenti il 10% della popolazione però qualcosa nel nostro paese è cambiato come ne veniamo fuori? perché le cose che vediamo nel film ah non lo so la ricetta non la so io credo solo una cosa noi nel film non prendiamo una posizione sarebbe stato credo sbagliato prenderla quindi gli schiaffi li prendono tutti dal preside cattolico ai due bidelli alle due musulmane alla maestra buddista ce n'è per tutti perché mi piacerebbe che la somma poi la facesse lo spettatore il film dà varie possibilità di lettura e lo spettatore è chiamato a partecipare col film non lo deve subire quello che mi piacerebbe in assoluto proprio nel momento storico che stiamo vivendo è condividere di più ma senza spaventarci cioè non la nostra macchina i nostri vestiti i nostri soldi parlo di condividere la nostra umanità senza paura di niente tanto poi comunque arrendiamoci perché la situazione è questa e aumenterà cioè non è che torneremo indietro allora questa strada mi piace allora voglio andare da Iaia per vederlo un po' appunto tu sei proprio un interprete della tradizione napoletana vieni da Napoli ecco lì perché voglio dire Napoli anche questo non so sul luogo comune ma la vediamo da sempre come una città all'insegna di culture diversissime situazioni sociali diversissime lì forse questa cosa l'avete un po' riscontrata già prima forse perché Napoli è stata una città storicamente dominata sempre da stranieri c'è una naturale apertura verso verso appunto i diversi da noi che appartiene proprio alla cultura della città per cui io avverto a Napoli il problema l'ho avverto con meno urgenza poi naturalmente c'è culturalmente un po' più lo gestiscono con più facilità però c'è una appunto storica capacità di accogliere di considerare il multietnismo come una caratteristica naturale dell'espressione della città a Napoli è più difficile se sei juventino bravo se sei di un'altra religione i problemi non ci stanno se sei juventino un problema c'è esatto tra l'altro voglio dire al contrario ci rimentichiamo tante volte voglio dire 50 anni fa dal sud Italia si andava al nord e quando si iscrivevano i bambini a scuola c'erano questi stessi problemi che si vedono nel film la storia si ripete una delle domande che mi chiedo ma così in assoluto che mi piacerebbe però mi piacerebbe che fosse l'effetto ottenuto dal film cioè che la gente magari puoi vederlo come vuoi puoi vederlo rimanendo in superficie farti due risate uscire dalla sala e passare una serata allegra come portartelo dopo a cena e farci due chiacchiere perché una delle cose che mi interessano proprio in un ipotetico diagramma dei corsi e ricorsi storici mi chiedevo noi dove ci posizioniamo adesso perché è curioso dove ci posizioniamo dove stiamo l'evoluzione tecnologica continua a velocità esponenziale l'evoluzione umana dell'umanità sembra in realtà retrocedere proporzionalmente all'evoluzione tecnologica questo però come mai perché appunto come dici tu la situazione è questa e quindi diciamo il meglio che possiamo fare è anche accettarla e viverla al meglio dall'altra parte c'è anche un po' di confusione lo dico anche agli amici che ci seguono che sicuramente la percepiscono da parte dell'informazione tu prima ricordavi il caso di questa scuola di Terni ce ne siamo occupati anche noi appunto sembrava che la recita fosse vietata poi Liman si è lamentato e non era Liman insomma si chiamano un po' fake news buffa la nozza al vini intanto il suo tweet l'ha fatto per non sapere né leggere né scrivere e alla fine non era vero niente perché la recita di Natale si è fatta però se si può alimentare il clima d'odio siamo tutti felici cioè la cosa in realtà questo non sono il primo a dirlo e non sarò manco l'ultimo se la gente ha paura è più governabile in assoluto ma detto questo io non darei la colpa alla politica perché sarebbe molto superficiale e vigliacco la colpa credo sia veramente di ognuno di noi si è perso proprio il senso civico dell'interagire della voglia di comunicare dell'altra religione diventa una scusa per attaccarsi sì anche perché poi tutte le religioni praticano la pace dimmene una che parta da un punto di vista contrario non mi parte senti Iaia poi non so se questa cosa comunque in qualche modo l'ha riscontrata anche voi se conoscete le insegnanti o tante amiche che fanno questo lavoro ma queste povere maestre alla fine che devono fare perché allora il crocefisso in classe c'era la cosa il presepe devono tenere conto di diversi canti e tradizioni insomma alla fine proprio come dire in questa notte voglia venire a capo non è una cosa semplicissima è difficile è difficile trovare una soluzione secondo me devono fare bene il loro lavoro perché lì dove c'è un insegnamento esemplare su valori semplicemente etici ci sono le risoluzioni sono solo lì perché l'ignoranza è il vero motore della paura dell'insofferenza e dell'individualismo quindi se un insegnante fa bene è difficile controllare i genitori poi tu sei anche papà no? sì mi sono vissuto mia figlia la prima a vent'anni il secondo ne ho due io non mi riproduco così ebbè quindi hai visto la scuola in fasi completamente diverse sì la sono vista tutta ho comprato anche io la carta igienica per la scuola perché non c'era non è una bella situazione e anche le maestre si sentono le maestre i professori dopo si sentono abbandonati a se stessi il problema comunque è solo degli adulti il problema è dei genitori perché i ragazzi te lo raccontavo prima è uscita un'inchiesta sull'ANSA piuttosto completa hanno fatto un'indagine sui ragazzi bambini dai 9 ai 18 anni il problema dell'accettazione del diverso dell'extracomunitario dell'altra religione non solo non se lo fanno ma sono felici di poter avere il confronto gli interessa li incuriosisce il problema è solo degli adulti noi ci facciamo una marea di problemi e li comunichiamo ai nostri figli quindi dobbiamo cercare di superare il pregiudizio allora questo lo fa e ce lo dice ora nell'intervista che stiamo per ascoltare un personaggio che nel film devo dire a sua volta un po' di pregiudizi ce l'ha che è quello interpretato da Serra Ilmaz che è turca la ricorderete sicuramente in tantissimi film di Ferza Nozpet e ormai praticamente l'abbiamo adottata in Italia quindi lei in questo film fa una bella parte bravissima bravissima eccola e poi comunque è un personaggio interessante da tantissimi punti di vista perché appunto Serra ha fatto non so se tutti lo ricordate ma è bene dirlo è stata l'interprete di due papi durante la visita apostolica in Turchia e poi avendo lavorato con Ospetek ha lavorato anche con un attore che tutti noi amiamo tantissimo e che è mancato di recente allora sentiamo quello che ci ha raccontato Serra Ilmaz Dov'è che lavora di bello lei? Impresa di pulizia Davvero? Ma sai che non avrei mai detto che faceva un lavoro di fatica? Infatti non lo faccio Cosa servirebbe? Forse ognuno che ognuno facesse un passetto in avanti Penso che ci sono dei valori da ristaurare nell'educazione come la disciplina l'educazione la buona educazione che è importantissima il rispetto il rispetto il rispetto non la tolleranza io odio la tolleranza io sono per il rispetto l'azienda è nostra mia e di mio marito ma sì che poetico ci ha pulito in coppia? Stanno in una stanza con su scritto direzione lo so che è difficile immaginarlo abbiamo dipendenti lei è stata l'interprete del Papa quando è andato in Turchia questa è un'esperienza pazzesca ce la racconto io stavo per rifiutare perché avevo qualcosa da fare a Parigi e lì il mio fidanzato parigino mi ha detto ma sei proprio pazza tutti i milioni sognano di avvicinarlo e ti pagano per avvicinarlo e tu lo vuoi rifiutare ma dai fallo e poi noi facciamo il nostro programma è mancato Fantastichini è una notizia terribile molto triste l'ho saputo prima di andare in scena a Milano e per me Ennio è veramente un personaggio che aveva un posto molto grande nel mio cuore anche se non lo vedevo da un po' e sono molto triste era veramente un attore favoloso e una persona molto molto favolosa per me ci manca tantissimo Fantastichini tu hai lavorato con lui pochi mesi fa in teatro un testo scritto e diretto da Cristina Comencini sì inoltre ero amica da 30 anni di Ennio avevamo fatto anche un corto divertentissimo concorsicato dove facevamo marito e moglie è una notizia terribile perché non solo era un grande amico un grande attore ma era un attore che incarnava delle caratteristiche di eccentricità anarchia idealismo che sono ormai rare per cui sembra che con lui se ne vada via un mondo diverso insomma più rock and roll più anarchico e più libero e sento proprio che ce lo dici veramente con tanta passione questa cosa penso che avete diviso molto beh gli volevo molto bene ed è stata totalmente improvvisa la scomparsa che è difficile ancora realizzarla Rolando anche tu hai lavorato con lui e tra l'altro lo sentivamo anche in questi giorni se ne è parlato in televisione tante persone che hanno lavorato con lui tutti condividono una cosa che è quella che ci ricevi tu l'eccezionalità di Fantastichini che detta così sembra una cosa quasi un po' e invece no non è un aggettivo vuoto tu avevi lavorato con lui ti ricordi di me lo conoscevo da tanti anni avevamo condiviso Ennio Ennio aveva vissuto una parte del cinema italiano che non esiste più io per altri versi ho avuto la stessa fortuna grazie a Ettore Scola quindi ci confrontavamo si discuteva si raccontava tra reduci sembrava Ennio per me e ha ragione Iaia perché non ne vedo altri Ennio rappresenta tuttora l'attore italiano di tradizione italiano e quindi internazionale nel senso più fiero del termine viene dalla storia di Gian Maria Volontè Ennio è quella scuola lì è un attore passionale è un attore istintivo ma capace di tecnica che sorregge quella sua passionalità è un interprete cambia di personaggio in personaggio a proprio chapeau senza paura dei propri sprofondi anche di metterli in campo che è una cosa non comune e comunque resta il fatto che una persona che scompare improvvisamente a 63 anni ora al di là del lavoro dell'attore è una cosa tremenda e l'avevamo ricevuta la notizia quando stavamo al festival di Torino devo dire spaventosa però come sempre in questo lavoro il cinema resta allora adesso Iaiaia io mi voglio soffermare un momento su di te perché tu sei un'attrice apprezzatissima a teatro ma è brava questa è brava è tanto brava è tanto tanto brava e sa cambiare sempre e ora ce la vediamo allora visto che ecco se la dovessi definire te lo volevo proprio chiedere Rolando con un aggettivo come la definiva quello che mi hai detto una festa e allora andiamo a questa festa perché sono tanti i volti di Iaia Forte perché non ti sei fatta mancare niente da Pappi Corsicato la grande bellezza da Salemme a questo film eccola qua Iaia Forte non vi preoccupate lo so che avete un evento importante dei 18 anni di vostra figlia l'unica attenzione che vi chiedo visto che c'è il secondino fate chiudere il mezzo portone del palazzo solo questo beh d'altra parte si usa e va bene e fate mettere pure un bel trappo nero solo questo sempre nell'ingresso illuminate solo quei candelabri eh solo questo e dove li prendiamo sti candelabri? quelli della festa prendiamo mettiamo anche il quadernone per le firme si grazie mettere anche un sottofondo di musica funebre si facciamo la cappella funeraria nell'ingresso grazie mio padre ringrazierà dall'alto buona festa siamo qui perché Samir ha lanciato una pietra e ha sfondato una finestra e non solo la finestra ha rotto pure a noi e insomma Rolando l'abbiamo detto è brava è brava Iaia per te il cinema è una festa è una festa e hai il tuo pubblico per te il cinema cos'è Iaia? per me beh come spettatrice o come attrice? come attrice me lo chiedi guarda il cinema mi ha insegnato io sento che la mia priorità è il teatro perché è quello che ho sempre fatto non ho mai lasciato però il cinema mi ha insegnato un sacco di cose come attrice da portare anche in teatro questo dopo che mi hai conosciuto dopo che l'ho conosciuto perché voglio dire che Rolando è un direttore ed attori fantastico beh anche perché qui insomma ci sono degli alterchi notevoli in questa storia quindi anche ed ha avuto un controllo della recitazione per un attore sentirsi guardato e amato è meraviglioso è molto frustrante lavorare con registi che non sanno a me è capitato ma non perché lo dice lei non dico che so lavorare con gli attori dico dall'altra parte avendo fatto l'attore per 30 anni che ti capita raramente ed è un'enorme frustrazione lavorare con registi attenti solo all'immagine perché tu in realtà sei a servizio dell'idea di film del regista e vorresti abbeverarti e invece spesso i registi gli attori li odiano tu avevi cominciato bene perché Coscola no è romanzo e mi manca in un modo che non hai idea anche a noi certo tutti i giorni ma tutti i santi giorni ci penso mi verrebbe di chiamarlo comunque l'eredità del suo cinema resta è quella che dicevamo prima e poi chissà anche appunto si sviluppa nelle storie che raccontiamo tornando alla storia che tu hai deciso di raccontare ecco credo che è una storia appunto interessante da tanti punti di vista perché è molto divertente però racconta il nostro tempo e poi c'è anche questa cosa Rolando tutti hanno ragione e tutti hanno torto questa è una cosa che a volte si dice nella vita è difficile dirlo però è così ma la vita è così tutti hanno torto tutti hanno ragione è sempre così allora l'abbiamo detto un po' anche prima però mi sembra interessante spiegarlo meglio e anche questo abbiamo iniziato con una frase chi è senza peccato scagli la prima pietra è anche qui da qualche parte scritto tornare ad avere un cuore da bambini oppure questo non lo dice Linus è un po' forse la soluzione per risolvere quello che stiamo vivendo che ne pensate come si fa questo come si ritorna ad essere come sono i bambini che spesso sono privi di pregiudizi insomma io posso dirti la mia di ricetta con i miei figli io penso che la responsabilità maggiore in questo momento sia proprio quella dei genitori i genitori devono pensare che tutto quello che fanno il loro modo di agire di parlare è quello che i nostri figli i loro figli riproporranno poi purtroppo invece è finita l'infanzia e incominci a sporcarti perché incominci soprattutto adesso poi con i social che sono pericolosi perché c'è una marea di cattiveria lì sopra ed è facile che tu incominci a difenderti istantaneamente è facile che arrivata l'adolescenza 12-13 anni sia esponenziale invece arroccarsi incattivirsi e difendersi quindi mi sembra di capire che siete andati molto d'accordo allora nel prossimo film pietre la seconda pietra è quella che mi tira lei sì perché qualcuno ha detto che si potrebbe fare anche un sequel di questo film il sequel lo faccio io la mattina dopo l'uscita lo dicevo già la seconda pietra me la metto al collo se gli incassi della prima sera tu preparati allora per la bidella insomma va bene allora grazie a Rolando Ravello grazie a Giaiaforte in bocca al lupo anche per i vostri prossimi progetti grazie a tutti